Oggi continuiamo la seduta di Jane, che finora ci ha raccontato che da bambina si ricordava di essere in grado di fare cose molto strane e adesso in questo corpo è molto brava a usare i suoi poteri psichici. Quindi qui dice sì, era solito comunicare con noi dalla sua culla. A causa della sua missione non aveva bisogno dello stesso livello di dimenticanza di tutti gli altri umani. E qui, questo ultimo paragrafo, vorrei farvi notare che l'entità che parla attraverso Jane sta dicendo che lei non aveva bisogno dello stesso livello di dimenticanza di tutti noi umani. E quindi quello che volevo puntare era che noi siamo qui in questa esistenza, in questo test, in questa vita, come vogliamo chiamarlo, con questo vello dell'oblio, questa dimenticanza. Noi non ci ricordiamo niente. Quello che dovremmo fare vita dopo vita, vita dopo vita, alzare le nostre vibrazioni, diventare più consapevoli, aprire il nostro cuore verso l'amore universale, essere collaborativi, non competitivi uno con l'altro. Perché noi tutti siamo uno e la stessa cosa. È quello che dovremmo iniziare a ricordarci. Non farci la guerra, non farci le battaglie, ma collaborare e cercare di fare un paradiso su questo meraviglioso pianeta che ne sia di beneficio per tutti quanti, non solo per alcuni. Andiamo avanti. Dolores qui dice molte persone non si ricordano della loro infanzia. Esattamente, molte persone non vorrebbero nemmeno ricordarseli. Quelle anime sono bellissime, ma gli umani non le riconoscono come tali. Devono nascere così senza memoria per poter servire le persone che stanno servendo il pianeta. Tuttavia, lei era in grado di ricordare queste cose, anche da bambina, sì. E anche la sua famiglia era molto comprensiva. Sì, erano molto complicati. Tuttavia, ha dovuto mettere queste abilità nel cassetto, se capisci cosa voglio dire. Sì. Perché per vivere come un umano ti devi adattare. Sì. Vuole sapere se adesso è possibile recuperare queste abilità. Sì, è ora di farlo. Sa come usarle, ma aveva bisogno di contenerle perché c'erano molte ciò che gli umani chiamano energie grigie nel sistema scolastico in cui stava lavorando. Sapeva che potevamo vedere ciò che poteva fare. Così, al fine di proteggere le informazioni, ha dovuto mettere queste abilità nel cassetto. Stava proteggendo se stessa. Ma stava anche proteggendo le informazioni. Quindi all'epoca si nascose e divenne umana. Sì. Qui Dolores dice, sapevo che la parte con cui stavo parlando era in grado di rispondere alle domande che Jane aveva. Così compresi che non sarebbe stato necessario far emergere il suo subconscio. Mi aveva detto che stavo già parlando con il suo subconscio. È difficile saperlo, essere in grado di distinguere la differenza tra una guida, un'altra entità e il subconscio. La guida o un'altra entità possono non avere accesso al tipo di informazioni necessarie. Spesso me lo dicono direttamente. A volte possono dirmi che devi far emergere il superconscio perché non sono in grado di rispondere alla domanda. Tutto ritorna al fatto che siamo uno. Tutte le nostre altre parti, più il sé superiore o superconscio, non sono altro che pezzetti della sorgente. A prima vista, questo sembra un tipico caso d'alieno assegnato a una piccola navicella. Poi sembrava fosse uno dei creatori e infine si identificò con un'altra parte di Jane. Quindi era molte cose diverse. Come succede per tutti noi. Così sapevo che sarei riuscita a raccoglierne informazioni da Jane, senza far emergere il subconscio. Possiamo parlare, condividere informazioni, vero? Sì, tu sei un canale meraviglioso per questo tipo di informazioni e ti ringraziamo per tutto quello che fai. Lavoro con voi ogni volta, sì, è vero. Conosco il tuo potere e lo rispetto, ma se le sarà permesso di risvegliare queste abilità, sarà una cosa giusta e sicura? Sì, creeremo il meccanismo protettivo intorno a lei che permetterà il risveglio delle abilità. Adesso ci sono molti umani sul pianeta che stanno aspettando di ricevere queste informazioni da lei. È il momento giusto. Sono molto protettiva, non vogliamo far nulla che possa danneggiarla o disturbare la sua vita. Alla fine deve fare la sua vita. Giustamente ecco perché abbiamo ristrutturato i suoi atomi. Parlamene Hanno più carbonio e possono trattenere più idrogeno così che l'espansione e la forza dell'energia possono entrare nel suo campo energetico. Perché avete dovuto ristrutturare le cellule? Puoi immaginare la quantità di frequenza che passeranno attraverso di lei? Sì? Quindi non vogliamo che il suo corpo fisico venga distrutto. Ho già sentito parlare di questo. Certe energie sono così forti che possono distruggere il corpo fisico. Esattamente. E questo è successo a molti umani. In molte occasioni quando un essere come voi prova ad entrare in un corpo neonato, questo non riesce a trattenere l'energia. C'è un aborto o nascono senza vita. Questo è ciò che ho sentito. Sì. Quindi ci stanno riprovando facendo degli adattamenti. Il fetto sta bene. È la madre che non si prende cura dell'energia che circonda il fetto. È troppo per fare la madre? Sì. Avete dovuto fare qualcosa a Jane prima che nascesse? Sì. Jane non entrò nel grembo, almeno fino al sesto mese perché stavamo lavorando sul suo ospite, il corpo della madre, quindi non poteva entrare fino al sesto mese. Quindi il corpo venne sviluppato per sei mesi prima che lei potesse testare le acque, per così dire. Sì, ma era già occupata da altre cose. Non so come spiegartelo. In pratica il sè superiore dell'uomo attiva la propria saggezza per creare il proprio corpo. In questo modo viene strutturato il fetto a livello cellulare, così che l'energia possa entrare. In molti casi si è così occupati che non si vuole entrare fino all'ultimo momento. Sì, questo è ciò che è successo a Jane. Vuoi dire l'anima, lo spirito che entrerà nel corpo? Esattamente. Non entrano. Strutturano il fetto perché si ha ciò che vogliono essere? Il fetto si struttura sempre nello stesso modo. Quando è pronto viene preparato perché l'anima possa entrare e poi vi entra. Quindi non cambiano o manipolano il fetto? Beh, lo fanno sì, ma la madre deve creare il... L'anima si deve formare. A volte l'energia o anime dicono alla madre che stanno arrivando, poi sono occupati con altre cose e si dimenticano di entrare nel corpo. Questo può succedere? Sì, in quel caso il bebè nasce senza un'anima nel corpo. Questo succede solo perché altre cose prendono la priorità, tutto qui. Come può esistere un bambino senza anima nel corpo? Beh, il corpo umano della madre è progettato per mandare tutto il sangue e tutto l'ossigeno alle cellule per crearlo. Quindi la saggezza del corpo umano ha il sopravvento nella formazione del feto e la struttura fisica. L'arrivo dell'anima. Il corpo è un'entità separata, vero? Sì, è quasi come una produzione industriale. Di volta in volta il corpo sa come creare il feto. Ecco perché l'anima è sicura di poter arrivare all'ultimo momento, perché il lavoro continua fino alla fine. Per questo dico alla gente che il feto vive attraverso la madre e la sua energia vitale lo mantiene viva. Quindi l'anima non deve essere nel neonato finché non si separa dalla madre. No, a volte l'anima viene e controlla. Questi sono i momenti in cui tirano calci e cose del genere. Wow, che bello e interessante questo. In teoria allora fino a quattro mesi l'anima non è mai nel corpo. Perché se non mi ricordo male, dopo quattro mesi ho sentito i primi calci. Beh, comunque. Poi se ne vanno ancora. Ecco perché la madre non può predire quando calcerà. Perché l'anima entra, annuncia la sua presenza, fa un po' di imprinting e se ne va ancora. Ovviamente l'anima può essere in molti luoghi diversi allo stesso tempo. Questo è ciò che dico alla gente. Non c'è bisogno di restare nel feto finché non si separa dalla madre. Sì. Solo allora deve esserci, altrimenti il bebè non sopravviverà. Sì. Ma mi avete detto che ogni cosa dovete essere ristrutturata affinché Jane potesse sostenere questa energia. Sì. Lei ha ancora i ricordi della sua abilità da bambina. Sì. E ora sarà in grado di utilizzarla. Sì. Come le riattiverete? Veremo da lei questa notte mentre dorme e le aiuteremo a ricordare. Le ricorderemo come utilizzarle senza rischi e come avvicinarsi alle persone mentre le sta usando. Come insegnarle ed usarle senza rischi. È molto potente ed è pronta. Quale abilità inizierete a riportare alla luce per prima? Beh, ha davvero bisogno di essere in molte prelocazioni simultaneamente e quindi imparerà questo e poi lo insegnerà. La bilocazione di cui stava parlando? E qui Dolores dice questa era un'altra delle abilità che si ricordava ad avere da bambina. era in grado di spostare il suo corpo istantaneamente da un luogo a un altro, solo pensandoci. Io qui farei un piccolo appunto. Pensate che queste cose lo sappiamo fare tutti, solo che non ci ricordiamo. Ma piano piano diventeremo sempre più consapevoli e ci ricordiamo tutte queste cose, tutte queste abilità, tutti questi doni che tutti noi abbiamo. Solo che adesso le energie sono talmente basse, dobbiamo essere in grado di alzare le nostre energie. E come lo faremo? Come lo facciamo? Lo facciamo diventando consapevoli di essere non solo un corpo e una mente, ma avere un corpo e una mente. Noi siamo spirito, noi siamo spirito, mente e corpo. O corpo, mente e spirito. Quindi era in grado di spostare il suo corpo istantaneamente da un luogo all'altro, solo pensandoci. Sì, e più di questo, lei viaggia molto nel futuro e sta già preparando il suo futuro. Lo farà molte altre volte e ci saranno viaggi simultanei in altri paesi, al fine di preparare le condizioni per il viaggio in cui insegnerà loro le informazioni di cui hanno bisogno. La gente la vedrà come un essere umano in carne ed ossa? Sì, sì, avrà molte forme diverse. Vorresti dire che non farà la bilocazione come uno spirito? No, sceglierà una forma e ci entrerà. Assomiglierà alla forma che ha adesso? No, beh, a volte dipende da dove andrai e come dovrà mescolarsi alla massa. Quindi la gente la vedrà come un essere umano fisico? Sì, nel suo corpo come Jane sarà consapevole che starà facendo queste cose? Sì, lo sta già facendo, solo che non è consapevole. Quindi non è un problema se ne viene a conoscenza ora. Sì, lei aiuta sempre la gente. E qui, Dolores dice, una delle domande di Jane aveva a che fare con la sensazione che qualcosa venisse da lei durante la notte. Le sembrava che fossero diverse tipologie di esseri. Oh, sono i suoi molti compiti. In base a ciò che fa nell'universo, la gente va a trovarla per farle sapere come se la cava con le loro missioni e per chiederle di partecipare o assistere in altre cose. Dice che a volte le dà fastidio. Sì, beh, le piace essere indaffarata. Dice che a volte ha la sensazione che le vengono fatti degli adattamenti. Sì, è molto difficile per lei continuare a uscire dal corpo, quindi dobbiamo continuare a fare adattamenti perché si ricordi di essere nel corpo. Facciamo tutte queste cose durante la notte. Se lo capisce, sarebbe tutto più facile? Sì. Che altre abilità volete reattivare? Volete che le padroneggia una alla volta? Lo farà simultaneamente. C'è molto movimento intorno a lei. Deve imparare a muovere le cose più facilmente senza spendere tanta energia nel farlo. Può muoverle prima di arrivare. Il potere della levitazione che aveva quando era bambina? Sì, spiegami cosa intendi dire. Sto vedendo un'immagine in cui lei è nel suo veicolo e a volte ci sono ostacoli sulla strada. Ci sono altri veicoli o altre circostanze sulla via dove sta guidando che la rallentano dall'essere dove dovrebbe essere. Tutto ciò verrà rimosso. Ne sarà conoscenza e riuscirà a spostare questi ostacoli? Sì, è un talento molto interessante. Sì, lo è. A volte si dimentica che la sua auto non è un'astronave e fece una risata. Guida come una pazza. Ci sono dei progetti più grossi. Ci sono dei vulcani nell'aria che gli umani chiamano away che sono pronti ad eruttare. Ma non è ancora ora. Dovrà lavorarci e rallentarli. Questo tipo di movimenti. Oh, questi sono i compiti che deve assolvere durante la notte. Sì, farà tutto questo nello stato di sonno. Sì, quindi non avrà alcuna memoria consapevole. Si ricorderà. Dobbiamo permettergli di riposare qualche volta. Ovviamente non vogliamo esaurirla. Esatto. Quindi dopo aver completato questi obiettivi riuscirà a ricordarsene? Sì. Non deve parlare con nessuno però, vero? Sentite cosa le dice qui. Non troverebbe le parole adatte per riuscire a descriverlo. E qui Dolores dice continuai con la lista delle sue domande una delle quali era se dovesse emigrare dal Canada. Sì, deve spostarsi ma non è ancora arrivato il momento giusto. C'è dell'energia molto potente che deve essere disolta lì dove vive. C'è molta energia attossica nell'ambiente cittadino. C'è molto inquinamento. Le ricorderò come disolverlo è come filtrare l'aria. Ma lei già lo sa. All'alba vede quel componente chimico che si forma sopra la città. Vede anche gli angeli più grandi che lo circondano quando rientra in città. Questo è uno dei suoi compiti? Sì. C'è molto inquinamento là. Molto inquinamento nell'acqua. Quindi deve occuparsi di questo prima di lasciare il Canada. Sì. Voleva sapere quale fosse il luogo migliore dove andare. Il luogo ideale. Dovrebbe andare a Sietan. La gente riuscirebbe a comprenderla lì. inoltre c'è bisogno di fare qualche riparazione al suolo. Ci sono zone che sono pronte a sprofondare. Sono sovraccariche d'energia. Ci andrà in circa un anno. Un anno di tempo umano. La porteremo sulla costa. C'è molto lavoro da fare là. Vuole connettersi con noi a livello conscio. Ci stiamo preparando ad incontrarla nel suo saluto. Ciò che vuole è vederci perché le manchiamo. Ma il suo cervello umano non comprende che la nostra forma è priva di forma. Tuttavia a lei piacerebbe vederci e così ci presenteremo di tanto in tanto. Prenderemo una forma che le è familiare. Qui Doloresci racconta quello che stanno facendo. il fisico abbiamo fatto una scansione corporea. Gli agenti chimici non sono in equilibrio. Gli ormoni il sistema endocrino se ne sta prendendo cura. Era sotto stress. C'è bisogno che rallentiamo un po'. La sua spina dorsale è stata trattata da così tanti terapisti privi di conoscenza che avremmo bisogno di realinearla. stavano lavorando con una struttura corporea diversa da ciò a cui sono abituati. Stiamo facendo degli adattamenti ma ci vorrà qualche giorno. Non dovrebbe permettere a nessun altro di massaggiarla. Altri terapeuti non comprenderanno questo corpo inoltre non si rende conto che sta assimilando l'energia di altre persone. deve proteggere il suo stomaco. Ha queste sensazioni nello stomaco di cui si presero loro cura. Dice qui Dolores abbiamo creato un campo energetico nella zona dello stomaco per proteggerla dalle energie delle persone con cui lavora. e questo è il messaggio finale che la parte di Jane che parla il suo se superiore o la sua superanima le dice siamo molto orgogliosi di lei e sappiamo che sta lavorando davvero tanto. Ha un lavoro importante da completare e ama tutti. siamo veramente compiaciuti del lavoro che sta facendo. Stavamo cercando di andare in qualche vita passata ma avete detto che non erano importanti. No lei ha integrato tutte le sue realtà multidimensionali questa vita è la più importante. Quindi ci avete mostrato l'orb cioè la sfera perché quella è una delle sue energie principali sì non ha avuto bisogno di farvi emergere no sapevate cosa dovevamo fare non è vero? Esattamente ed è con questa risposta che si conclude questo capitolo e si conclude questa meravigliosa seduta di Jane io mi fermo qui vi aspetto domani con un nuovo capitolo grazie mille e a tutti voi una bellissima giornata ciao